Quali sono le modalità per affrontare la transgenerazionalità? Le modalità per affrontare la transgenerazionalità possono essere molteplici. Si parla da un punto di vista terapeutico, da un punto di vista non educativo, relazionale, ma sicuramente la cosa che posso dire è che non è un'operazione che si può fare da soli, chiusi nella propria camera. È molto importante il confronto, il rapporto, il sentire anche il punto di vista degli altri. Forse la modalità più bella potrebbe proprio essere quella di farla in gruppo, per esempio, dove ci si confronta con il punto di vista degli altri. Ok, grazie mille, grazie a Dio che è stato con noi. Buonasera. Grazie a tutti.